Ciao Rudy sono le otto del mattina grazie di questo invito perché oggi dobbiamo cucinare gli asparagi freschi di Zambara. Questo è il ferro, è un supporto fondamentale perché con lui riesci a scavare il terreno e aggiungere le radizie per fargli fare il salto. Però non tagli, devi stare attento perché è meglio evitare di tagliarlo. Non dare agli estrani. Esatto, comunque tende a non dannezzarlo.